Le ragazze under 19 del Pordenone Calcio, recentemente laureatesi a Firenze e Campionese d'Italia, sono state premiate dal sindaco Alessandro Ciriani e dall'assessore allo sport Walter De Bortoli. Portare in consiglio comunale queste ragazze è significato tributare il riconoscimento per il grande risultato che hanno ottenuto, che non è mai frutto della fortuna, è frutto di impegno e sacrificio, ma anche di una grande società che investe nel settore giovanile. Ed è giusto che il loro obiettivo, il loro traguardo non sia festeggiato esclusivamente nella cerchia degli sportivi, dei loro tifosi, dei supporti familiari, ma si è conosciuto nell'intera città come modello di ragazze che studiano e fanno sport, raggiungendo e centrando obiettivi straordinari come sia il Campione d'Italia. Stiamo festeggiando un grande successo, il Pordenone Calcio con l'Under 19 ha portato a casa il titolo italiano in assoluto, sono ragazze straordinarie, un momento straordinario per Pordenone, un momento straordinario che deve diventare anche per il mondo sportivo perché in questo momento non ha tutte le soddisfazioni che merita. Dunque Pordenone ancora una volta batte un colpo, riprende dopo la pandemia, speriamo che rimanga a questo momento così felice di poter riprendere il mondo sportivo, queste ragazze saranno la parte più bella che noi possiamo mostrare e indicare che è un esempio per tutto il mondo sportivo, sia giovanile ma anche quello ricreativo. Dunque facciamo gli auguri a tutti i nostri ragazzi, soprattutto ai genitori che vedo grande Tudamo qui oggi, che mandano i loro ragazzi in qualsiasi sport vogliono i ragazzi ma che li mandano a fare sport perché è un fatto formativo, salutistico e anche aggregativo. Presenti lo staff tecnico al completo, il CONI Pordenone, la federazione gioco calcio della nostra regione, la delegazione Lega Nazionale di Lettanti Regionali di Pordenone. Stasera abbiamo festeggiato le campionesse d'Italia dell'Under 17 del Pordenone Calcio, è un motivo di grande soddisfazione per il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, aver riportato uno scudetto davvero prestigioso per il calcio ma soprattutto per il calcio femminile. L'augurio che noi ci facciamo è che anche nella nostra regione il mondo del calcio femminile abbia quello sviluppo e quel successo che ha in altre regioni limitrofe e quindi il percorso comincia proprio da qui, da oggi, da questo prestigioso scudetto che le ramarre di Pordenone hanno vinto.